Buonasera, buonasera Feltri. Allora, con la settimana del Salone del Mobile, Milano è il centro del mondo? Lo credo. Eh, infatti bello, no? Certo, certo, per forza. Beh, insomma, non è detto che... Il Salone è un evento di portata mondiale. Certo, è vero. Non puoi mica farlo a Roma o a Napoli. Ma perché? Non cominci, per favore, non cominci. Ma no, non comincio cosa? È la verità. Ma non è la verità, no? Intanto la parola mobile è incompatibile con Napoli e Roma. Perché? Perché? Lì non si muove mai un cazzo di nessuno. No, no, cominciamo con... Ma no, perché hanno la pancia piena di pizza fritta. Ma no, ma no, ma la smesso. Ma non vivono mica, loro digeriscono. No, no, guardi, non cominciamo così. Questo più che altro a Napoli. Ma no, ma no, ma no, ma no. Ma guardi, non è il caso. Parliamo bene di Milano, senza andare... Per non parlare poi di Roma. Ma lasciamo stare adesso. Il salone non sarebbe possibile perché i romani, come vedono un mobile dai frigoriferi in su, non resistono a buttarlo nei cassonetti. Ma no, non offenda. Ma no, ma non offenda cosa è la realtà fattuale? No, sono sue fattuale. Il rapporto dei romani con la monnezza è un fatto affettivo. Ma no, no, è un problema. Non riescono a separarsene. No, guardi. Ma là, perché fa parte della loro cultura. Ma quale cultura? Ci sono sacchetti storici con tanto di targhetta celebrativa attaccata. Ma cosa dice... Muzio Scevola gettò. Anno 470 avanti Cristo. No, no, allora, il problema degli... Per cui il salone del mobile è possibile solo a Milano. Va bene, va bene. Discorso a parte per il fuorisalone. In che senso? Perché, scusi? Perché il fuorisalone è il regno del male. Ma no, ma perché? Ma sì, perché illude i giovani di poter fare tutti designer. Ma no, ma no. Invece di andare a ripopolare i borghi che stanno morendo. Quello, va bene, non è che... Magari in una stalla a svuotare le mammelle alle vacche per fare il taleggio. Va bene, però è un'altra cosa. Invece tutti agognano a vivere a Milano solo perché è piena di un altro tipo di vacche. Sì, sì, sì. Che nelle mammelle, invece del latte, hanno un assortimento da ferramenta che neanche l'abrico. Trova una varietà di moschettoni così nutrita sui capezzoli. Allora, sta parlando del piercing, però non cominci. Ma no, comincio... Ma no, ma perché lei mi rompe i coglioni? Ma io... Ma lei mi chiama qua per dire la mia su certi punti di vista e poi mi rende argomento. Ma insomma... Ma che ogni tanto sarebbe bello fare un discorso. Ma no, lei è ipocrita come tutta la sinistra. No, ma che cosa c'entra adesso? Ma no, ma no, ma no. Stava facendo un discorso che non ha senso. Ma non me lo ricordo più perché sono anziano. Stava parlando del fatto che auspicava che i ragazzi andassero nei borghi, no? A ripopolare i borghi. Io la spiego in termini civili. Capisco che nei borghi sia difficile socializzare. Non tiri su, per favore. Ma no, perché la prima cosa da fare sarebbe quella di ripopolare le nostre campagne e i nostri boschi. Non di orsi. Eh, eh. Di cosa? Di cosa, di cosa? Lei non se lo immagina neanche. Sì, purtroppo... Ma lei è fluido, però... No, 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 no. Io invece degli orsi ripopolerei di un'altra... Sì, l'abbiamo capito, no? Io ho tanta figa. Sì, ecco, ma... Potevamo anche non dirlo, però non si esprima in questo modo. Ma no, ma è la verità, ma per socializzare... Eh. Guardi che per socializzare la spaccotta è la materia prima. Ma possiamo parlare di cose un po' più alte? Ma naturalmente bio, allevata all'aperto, rigorosamente non bagasciata. Ma cosa sta dicendo? Ah, ma lo sto dicendo che la femmina da borgo non deve avere la minigonna di quelle come hanno le ragazze, certe ragazze di oggi... Perché? Cosa ha di male? Che il ginecologo già in sala d'aspetto dice a posto così visita fatta. Senta, allora, ma perché si accanisce? Io non so, ma io le ricordo che... Aspetta, c'è un applauso! Ma è un applauso che lei è un consigliere regionale, è anche un esponente politico. Ma no, perché lei è di sinistra e i bocchi. La verità è come la Berlinguer, è come la Gruber, è come Fabio Fazio. No, cosa c'entra adesso? Sta tirando in mezzo tutti senza nessun motivo. È un denominatore comune, l'ipocrisia, come ce l'ha lei. Ma perché? Ho solo detto perché se la prende con la minigonna, non capisco. Ma no, io penso che sia meglio il vedo o non vedo. Va bene, certo. Nel caso di una Schlein Point, meglio non vedo del tutto. Ma allora non ce la fa, non ce la facciamo. Pena lo scorbuto psicosomatico. Ah, mamma mia, mamma mia. E comunque i giovani, se non vogliono tornare a una vita più rurale, ecco, torniamo a stare... Dobbiamo obbligarli. Sì, perché? Altrimenti poi per raccogliere i nostri pomodori ci tocca importare qui i bingo-bonghi. No, 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 no. Anche se essendo quadrumani fanno prima. No, la smeta, per favore. Ma per favore cosa? Perché? Ma cosa c'è? Cosa vuole? Non può dirle queste cose. Ma no, la satira è libera, eh? È come la vignetta. Che cosa vuole? Lei è un giornalista. L'ha detto anche Fiorello. Ah, sono ero, ero. No, 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 è un giornalista e anche un... Se lei proprio i troberoni coi capelli le fanno goduri a vada a vederli allo Stato Brado a casa loro... Io non volevo... Come ha fatto la Meloni ad Addis Abeba. Cosa c'entra adesso la missione della Meloni ad Addis Abeba? Non c'entra, ma è così. Ma vuole smettergli... Ma no, la Meloni è una stratega. In che senso? Gli ha fregati tutti sul tempo. Cosa sta dicendo? Andando lei prima che venissero loro. Ma no, ma no, ma no. Non è accettabile questa cosa. Ha avuto un'accoglienza triunfale, come si addice a un'imprenditrice del Consiglio acclamata da questa forma. Presidente del Consiglio, non è... Di Gianduiotti con la bandierina. Ma no, allora, erano dei bambini... E lei a tanti ha dato la mano? Certo. Senza neanche assicurarsi che avessero già mangiato? Quindi rischiando un morso? Allora, continua a dire cose irricevibili, no? Ma no, ma che cazzo dice, è etologia. Non si permetta. Ma no, è etologia. Non lo fanno mica per cattiveria, è istinto loro. La vogliamo smettere? Basta, basta. E poi Giorgio gli ha fatto un discorso motivazionale, bellissimo. Beh, che l'abbiamo sentito. Cioè, di non smettere mai di studiare rigorosamente lì. No, 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 no. Ad Adisabeva. No, non ha detto questo. Possibilmente senza uscire dalla stanza per almeno 40-50 anni. No, 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 no. Anche perché se volessero venire qui non troverebbero uno straccio di scafista. Perché? Visto che servono tutti a noi per deportare nel Conti Nero, in Tè Nero... Cosa? ...tutti i minchioni del fuori salone. No, 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 no.